In questo ultimo periodo sono entrati in casa un mucchio di libri un po' comprati un po' scambiati un po' per indie books quindi magari è arrivato il momento di farvene vedere qualcuno e di raccontarvi anche perché sono entrati in questa casa e magari perché li voglio leggere Partirei dal primo che vi faccio vedere che è l'unico che ho comprato a prezzo pieno ovvero persone normali di Sally Rooney voi sapete quanto io l'anno scorso abbia amato parlarne tra amici che tra l'altro è proprio un mio ricordo di questo periodo più o meno e quindi non potevo lasciarmi sfuggire il suo seguito il suo secondo romanzo mi ricordo tra l'altro che quando ero a Edimburgo questo capodanno avevo visto l'originale ed ero anche rimasta abbastanza tentata poi ho detto vabbè no per quest'anno comincio l'anno senza comprare libri e sapete che ho tirato anche fino a Book Pride per cui ho aspettato la traduzione in italiano ho cominciato a leggere le primissime pagine infatti vedete che non c'è neanche un segnalibro giusto per capire un po' com'era l'andazzo e devo dire che ho fatto fatica a posarlo per cui immagino che sarà una delle mie prossime letture e sono anche abbastanza certa che mi piacerà poi ho qui tre libri che sono arrivati con Indie Books io inizialmente pensavo di leggerne soltanto due ma poi quando ho visto il terzo ho pensato che anche quello mi sarebbe potuto piacere partendo proprio dal terzo che è Lamentation di Joe Clifford forse se mi seguite su Instagram avete già visto i libri di Indie Books che sono appena arrivati questo dovrebbe essere un noir sapete che io ho parlato con gli editori di Casa Sirio quando sono andata al salone del libro e mi avevano anche accennato a questo romanzo poi io avevo deciso di comprarne un altro che leggerò per quel mese però visto che è arrivato nella busta direi che sono abbastanza interessata e secondo me se è un noir di quelli che fuggono via velocemente può essere una buona lettura di intrattenimento tra una lettura impegnativa e l'altra e a proposito di letture impegnative quegli altri due dal punto di vista magari non della lingua ma del contenuto secondo me entrambi hanno una potenzialità forte L'Ordine del Giorno che ha vinto il Goncourt un paio di anni fa ed è una storia che ha a che fare con la seconda guerra mondiale l'entrata in guerra eccetera eccetera se ne è parlato tantissimo e io ho sentito solo pareri positivi su questo libro tra l'altro chi l'ha letto prima di me deve averlo molto amato e quindi mi appresto anch'io ad amarlo moltissimo perciò sono veramente contenta di avere l'opportunità tramite Indie Books e letture indie di poter leggere questi libri e poi l'ultimo che era dentro il pacchetto è Imendible che questo invece è impegnativo anche dal punto di vista della mole e del peso quindi sarà una lettura che potrò fare soltanto la sera o comunque messa a comoda sul divano non è certo un libro da tram dovrebbe essere una sorta di distopia dove gli Stati Uniti sono al collasso economico lo trovo molto interessante dal punto di vista della trama vedremo come sarà dal punto di vista poi della lingua come sapete letture indie è un progetto di libri itineranti per cui è vero che questi libri sono entrati in questa casa ma una volta finiti di leggerli usciranno per andare nelle mani di qualche altro lettore che poi ve ne parlerà venendo invece a due libri che comunque hanno viaggiato parliamo di due libri di uno scambio cioè ho organizzato un pomeriggio di scambio libri a casa mia purtroppo eravamo in poche però spero che in una tornata successiva saremo un po' di più e i libri del mio bottino sono un'eredità di avorio e ambra credo che questo sia un romanzo abbastanza noto un bel mattonazzo però una storia familiare la storia di una famiglia che colleziona oggetti d'avorio ed ambra dovrebbero essere dei piccoli soprammobili e la storia della loro collezione è il pretesto per raccontare la storia della loro famiglia ho sentito anche di qui soltanto pareri positivi e quindi sono molto ben propensa alla lettura di questo romanzo e poi sempre in quell'occasione La cucina delle spezie una storia di immigrazione di cucina di famiglia e credo che questo sia un po' anche questa è una lettura abbastanza leggera ma spero tenera e coinvolgente e comunque secondo me se ci sono le tematiche dell'immigrazione può aiutare a far riflettere anche un libro dall'apparenza leggero questo invece può essere un buon libro da Trump perché anche se non è sottilissimo non è pesantissimo e appunto se la scrittura è semplice e leggera si può leggere anche magari tra una fermata e l'altra ovviamente in quell'occasione sono usciti due libri da casa e quindi la libreria per un po' è salva poi c'è qui uno scatolone che corrisponde ad un ordine che ho fatto sul libraccio anche se qui la scatola non lo lascio attrapelare è stata una promozione sul libraccio abbastanza importante perché per un loro compleanno mi sembra hanno fatto il 60% di sconto su tutto l'usato e quindi ne ho approfittato per portarmi a casa dei libri che avevo in wish list da un po' e che mi ronzavano per un bel po' nella mente e poi c'è qui dentro un altro libro che anche questo appena avrò finito di leggerlo uscirà dalla mia casa e andrà da un'altra parte pesco i libri da come siano dentro nella scatola e quindi poi vi racconto le ragioni per cui l'ho comprato allora un altro libro che avevo in wish list da tantissimo Bettinelli Brum Brum 254.000 km in Vespa lui ha fatto un viaggio in Vespa da Roma mi sembra al Vietnam e lo ha raccontato in un libro di viaggi che io trovo affascinantissimo lui ha scritto tanti libri dei suoi viaggi che ha fatto cioè provate a vedere ecco questo per darvi un'idea dei viaggi che lui ha fatto in Vespa io trovo che l'idea sia super affascinante sapete che voglio leggere più libri di viaggio secondo me lui è un ottimo autore di letteratura di viaggio in più è uno che potrebbe farmi venire sempre di più la voglia di aggiungere delle destinazioni alla mia wish list di viaggiatrice e poi ci sono qui un paio di classici contemporanei della letteratura italiana tra l'altro con delle belle edizioni un po' vissute L'isola di Arturo di Elsa Morante che è un romanzo che avevo cominciato ad ascoltare in audiolibro molto tempo fa grazie al programma ad alta voce e poi ero rimasta un po' interrotta ero andata avanti con altre cose e quindi non avevo mai terminato di ascoltarlo però vorrei riprenderlo da zero non ho mai letto niente della Morante e sono particolarmente attratta sia da questo sia dalla storia credo che sia ora di conoscere un po' meglio la letteratura di quel periodo e soprattutto uno dei pilastri appunto di quella letteratura italiana che io purtroppo non conosco ancora abbastanza bene un altro pilastro della letteratura italiana del dopoguerra Beppe Fenoglio La paga del sabato questo è un romanzo di cui si sente parlare un poco come se fosse un romanzo di nicchia però chi ne parla ne parla sempre in termini entusiastici chi di voi ha letto Fedeltà saprà che è un romanzo che compare spesso dentro quella storia e però ne parla sempre anche tanto Giulie De Mar dell'omonimo canale e quindi ho pensato che valesse la pena di scoprire Fenoglio attraverso magari un suo romanzo meno famoso ma è un romanzo di cui si sentono solo parole positive per cui tra l'altro è anche un libro sottile anche se mi sembra di aver visto anche una questione privata che è un altro romanzo che mi attira molto sono abbastanza rapidi quantomeno come numero di pagine poi ovviamente non conoscendo la sua scrittura non so dire però lo scopriremo naturalmente se lo avete letto se avete letto qualcuno di questi romanzi lasciatemi nei commenti le vostre opinioni perché i vostri consigli mi tornano sempre utili e un altro romanzo di un autore italiano che purtroppo ormai è un po' sparito dai radar l'italiano brancati il bell'antonio da cui è stato anche tratto un film come vedete dalla copertina non conosco la scrittura di brancati non ho mai letto niente di suo e mi dispiace che sia un po' caduto nel dimenticatoio avevo letto sul blog del Kobo delle parole meravigliose a proposito di quest'autore in realtà in particolare sui suoi racconti però ho pensato di partire da uno dei suoi pilastri per poi scoprire eventualmente anche la sua altra produzione non so quando leggerò tutte queste cose perché ovviamente non mi mancano i libri da leggere però devo dire che non ho in programma di acquistare nient'altro almeno fino a settembre a settembre c'è un libro che voglio ma per allora direi che posso andare avanti a macinare i libri che sono in casa da ultimo un altro libro che entra in questa casa ma poi ne uscirà La donna dello scandalo che è il romanzo che è servito da base per il film Diario di uno scandalo che è il con Judy Dench e Kate Blanchett qualcuno di voi sicuramente lo avrà già visto è la storia di una professoressa che ha una relazione con un suo allievo sembra una storia torbida ma probabilmente è più psicologica che altro lì al corso di scrittura abbiamo visto i primi 20 minuti del film e poi ci siamo domandati come potesse essere la scrittura di questa autrice perché è chiaro che il romanzo ha un peso molto forte poi nella realizzazione del libro quindi eravamo molto affascinati e lo abbiamo cercato purtroppo sembra che sia fuori catalogo ho trovato l'ultima copia disponibile sul libraccio non esiste in ebook e non l'ho visto disponibile nemmeno nuovo non so se poi si trovi in qualche fondo di magazzino in qualche mercatino dell'usato come vedete già qui quando è finito il libraccio probabilmente era scontato perché era qualcosa dai cestoni di qualche libreria che chiudeva è comunque una sorta anche qui di fondo di magazzino per cui non so se sarà facile da reperire quando io avrò finito di leggerlo lo passerò al mio insegnante di scrittura narrativa in modo che lui lo possa leggere e poi tenere a disposizione della scuola così è come se fosse una mini biblioteca e altre gente avrà la possibilità di leggerlo ve ne parlerò perché lo leggerò a brevissimo in modo appunto da poi passarlo a lui e così anche voi ne potrete trarre un'opinione so che è difficile da reperire però magari qualcuno di voi incredibilmente ce l'ha in casa lo trova in un mercatino o chissà mai i casi della vita insomma inserire un libro in un wish list non fa mai male e poi a volte tornerà disponibile quando uno neanche più ci pensava sono finiti i libri che sono entrati in casa nelle ultime settimane so che non sono pochi ma ho intenzione di fermarmi a con l'acquisto di libri per un bel po' di tempo a dire il vero c'è soltanto un libro di cui aspetto l'uscita entro fine anno e poi non dovrei comprare più nient'altro so che dico sempre così e poi amaramente me ne pento e la libreria prima o poi mi cadrà in testa se voi avete comprato qualche libro raccontatemi dei vostri acquisti raccontatemi invece come fate se resistete all'acquisto di libri nuovi o vecchi che siano se avete un segreto spiegatemi come fate e noi ci rivediamo lunedì prossimo con il prossimo video e nel frattempo buone letture a tutti